Ben trovati a tutti, un nuovo appuntamento tra le righe consigli di lettura dalla libreria Padre Pio di San Giovanni Rotondo, a pochi passi dal convento. Partiamo con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina, edizioni Padre Pio, firmato da un confratello del Santo, Fra Luigi la Vecchia, e intitolato L'uomo Francesco Forgione, Padre Pio attraverso i componimenti scolastici e l'epistolario. Chi è davvero Padre Pio da Pietrelcina? Ovvero sia quali sono i suoi tratti umani, il suo temperamento, le sue perplessità, le sue difficoltà, i suoi affetti, il suo mondo, la sua provenienza culturale e storica e il suo vissuto. Abbiamo concepito così un lavoro che non escludesse nulla di quanto da lui scritto e a noi pervenuto. Infatti, nella conclusione generale del libro, non mi addentro nelle pagine dedicate all'epistolario e componimenti scolastici, perché, come dire, non ho gli strumenti per farlo, lo lascio fare al suo autore, leggiamo che da questo lavoro traspare un Padre Pio da Pietrelcina concreto, degustato dalla nostra umanità nella sua fragranza di umanità autentica. Incontrarlo significa in qualche modo farsi incontrare nella propria umanità e nel profondo della propria coscienza, per non rinunciare al progetto di santità che Dio affida all'umanità di ciascuno di noi, nel giorno del battesimo, consegnandoci all'azione della grazia dello Spirito Santo. Null'altro si doveva dimostrare, se non la personale convinzione, che prima di gridare alla santità di Padre Pio si debba gridare a testare la veracità dell'umanità dello stesso. Probabilmente ognuno rimarrà ancora tentato di ripiegarsi sulle proprie debolezze personali e di abbandonare il progetto divino di santità, ma proprio guardando l'esperienza di Padre Pio, un uomo diventato santo, ciascuno ad un tratto può far felice la scoperta che quando Dio chiama l'impegno della sua imitazione sul cammino della perfezione, la santità, affida tale sorte non agli angeli, ma agli uomini concreti, quelli che abitano la storia. L'umanità è la pasta che incontrando il lievito della grazia può diventare santità, ossia umanità splendente della luce di Dio. E allora, questo libro con una bella immagine di un giovane santo da Pietrecina in copertina, edizioni Padre Pio, appunto le edizioni dei frati, fra Luigi la Vecchia, firma l'uomo Francesco Forgione attraverso i componimenti scolastici e l'epistolario. In questo libro, Fran Michael dà voce alle pagine più belle di Etty Illesum, ebrea, non praticante, originaria di olandese, e che ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell'Olocausto. In un momento storico particolarmente duro da vivere, leggiamo nell'introduzione, dinanzi alla minaccia di una disumanizzazione di massa, Etty Illesum ha scelto di usare la parola per resistere alle barbare. Infatti ha scritto, proprio ha messo nero su bianco i suoi sentimenti, in un periodo storico drammatico. Ad ognuno di noi è chiesto non solo di vigilare sul modo di usare le parole, ma pure di impegnarsi a imparare ogni giorno a rimettere appunto il vocabolario a cui attingiamo. Come bambini che imparano a leggere e a scrivere, siamo chiamati a non dare per scontato di saperlo fare una volta per sempre. Le parole che in queste pagine abbiamo la gioia di riprendere e di ricomprendere possono essere come una piccola scuola intima in cui dedichiamo un po' di tempo a cesellare il nostro vocabolario personale. Dedicarci a questo lavoro interiore ci permette di affinare la nostra capacità di cesellare un modo sempre più umano e umanizzante di abitare il mondo. Una cosa non dobbiamo mai dimenticare. Le parole cambiano nel tempo e non possono restare ferme su se stesse. Devono crescere con noi e non solo dentro di noi. Le parole sono un dono che ci facciamo e siamo chiamati a condividere, imparando a riconoscerci e ad accettarci nelle nostre differenze. Sono come ponti le parole. È per questo che sono nate dentro di noi, per comunicare gli uni gli altri ciò che abbiamo scoperto e che continuiamo a scoprire nel mistero della vita, che, come amava ripetere Etti Illesum, è proprio bella. E si tratta proprio di aprirci alla bellezza. Fratello Michael Davide per Edizioni Terra Santa, ogni battito del cuore, le più belle pagine di Etti Illesum. Il prossimo libro è dedicato a Frate Alessandro Voce di Assisi, Frate Alessandro Giacomo Brustenghi, che si racconta in questa autobiografia titolata La nostra voce, storia di un dono. Il libro è edito dalla San Paolo. È nel caso di dire che nessuna autobiografia è uguale all'altra, però molte si caratterizzano proprio per l'originalità delle esperienze. In questo libro, per la prima volta, Frate Alessandro, la voce di Assisi, un grande cantante, un tenore, ricordiamo che è conosciuto soprattutto per essere il primo francescano ad aver pubblicato un libro per un'etichetta musicale internazionale. Ecco, per la prima volta si racconta in questo libro a cuore aperto svelando non solo di avere un talento musicale, ma anche un talento da scrittore. Leggo un passaggio che riguarda proprio, come dire, la sua avventura, la casa discografica, con la quale ha pubblicato il suo primo libro, una casa londinese internazionale, e si chiama La Decca. E quindi, quando si rende conto che sta per iniziare questa avventura, scrive, «Nel giorno a seguire avevo la chiara impressione che stava accadendo qualcosa più grande di me. Ma perché proprio io?» Continuava a chiedermi con un po' di sospetto. «Quanti tenori più bravi di me meriterebbero di registrare con La Decca?» «Moltissimi. Non avevo ancora ripreso a studiare seriamente, la voce non era posta, aveva bisogno ancora di mesi di lavoro. Dopotutto mi sono sempre considerato un povero e semplice tenore di campagna, di quelli che ti cantano la romanza in osteria o quattro canti napoletani dopo cena con gli amici. Per non parlare di tutti quei movimenti che faccio quando canto, mi vengono spontanei, ma forse a volte sono esagerati. No, io proprio no. Dai, cosa centro io con i vedi cantanti, quelli che lo fanno per professione?» Scrive, «Ma se dietro ci fosse un progetto divino?» Pensavo ai profeti come Davide o Amos. Forse il Signore mi stava chiedendo una missione. «Tante domande. Chiesi consigli ai miei amici, ai miei genitori, ai frati. Quasi tutti erano entusiasti della proposta che avevo ricevuto, mentre io ero sempre più perplesso. A questo punto non restava che parlarne anche con il provinciale. Chiesi un appuntamento e gli riferì l'esito dell'audizione. Ero convinto che mi avrebbe detto di lasciar perdere tutto. Un conto è un'audizione, un altro è un contratto appunto con una major discografica. In più, Fra Bruno, in questo caso il provinciale, sapeva benissimo quanto desiderassi vivere in ritiro, un momento delicato. Invece fu entusiasta, riconoscendo in questa proposta una straordinaria occasione di evangelizzazione. «Pianificate bene», disse. «Pianificate bene i fatti, i passi da fare e teneteci aggiornati». «Di nuovo senza parole», scrive Fra D'Alessandro. «Deluso, felice. Tutti mi incoraggiavano di andare avanti, mentre qualcosa in me si ribellava. Forse davvero Dio mi stava chiedendo una nuova missione». I dubbi iniziavano a dipanarsi e sentivo la responsabilità di dover accettare in obbedienza per amore del suo Vangelo. E poi il resto, come dire, è un po' storia, la storia di Fra D'Alessandro, voce di Assisi, che firma questa autobiografia per la San Paolo, «La nostra voce, storia di un dono». E concludiamo anche questa puntata con una storia di Bruno Ferrero. «Piccole storie per l'anima», LDC. La storia di quest'oggi è tratta da un libro intitolato «A volte basta un raggio di sole». Questa storia si intitola «Grazie». Un insegnante chiese agli scolari della sua prima elementare di disegnare qualcosa per cui sentissero di ringraziare il Signore. Pensò quanto poco di essere grati in realtà avessero questi bambini provenienti dai quartieri poveri, ma sapeva che quasi tutti avrebbero disegnato panettoni o tavole imbandite. L'insegnante fu colta di sorpresa dal disegno consegnato da Tino, una semplice mano disegnata in maniera infantile. «La mano di chi?». La classe rimase affascinata dall'immagine astratta. «Secondo me è la mano di Dio che porta da mangiare», disse un bambino. «Un contadino», disse un altro, perché alleva i polli e le patatine fritte. Mentre gli altri erano a lavoro, l'insegnante si chinò sul banco di Tino e domandò di chi fosse la mano. «È la tua mano, maestra?», mormorò il bambino. Si rammentò che tutte le sere prendeva per mano Tino, che era il più piccolo e lo accompagnava all'uscita. Lo faceva anche con gli altri bambini, ma per Tino voleva dire molto. E aggiunge Bruno Ferrero. «Hai mai pensato al potere immenso delle mani? Dovremmo imparare ad osservare i comandamenti della casalinga. Se ci dormi sopra, rimettilo in ordine. Se lo indossi, appendilo. Se finisci di mangiare, mettilo nel lavandino. Se ci cammini sopra, sbattilo. Se lo apri, chiudilo. Se lo svuoti, riempilo. Se suona, rispondi. Se miagola, dagli da mangiare. Se piange, amalo». Anche questa è una piccola storia che ha rinfrancato, lo spero, la nostra e la vostra anima anche questa settimana. A volte basta un raggio di sole di Bruno Ferrero, LDC. Se volete rivedere questa puntata o anche le altre di Tra le Viche, vi consiglio di andare sul nostro canale YouTube e potete rivedere questa e anche le puntate delle scorse settimane. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata. Grazie a tutti.